Va bene, possiamo andare avanti. Non sapevo che fossi così, anche al centro della polemica sui vaccini. No, non sono io al centro, io vedo che c'è una polemica. No, la vaccinazione, ci sono obblighi di legge, non sono io alla polemica. Però mi sento in tutto il cuore di difendere. La vaccinazione è una buona pratica di vaccinazione, per la tutela della salute dei bambini. Andiamo avanti. E dico, se senti tra queste cose... Signora, senti il fatto di un po' di... Non mi spiega niente di parlare di vaccinazione stasera, stiamo parlando di un altro argomento. Signora, lei se vuole dopo può intervenire sui vaccini, però adesso... Proffetto, il prego di provocare una manifestazione, diciamo, sul tema delle vaccinazioni...